Buongiorno, buongiorno da Samo Arturo Peretor. Oggi vi voglio parlare di una chiesa, una chiesa situata lungo la via Garibaldi, tutt'oggi esistente con nome di chiesa di San Dalmazzo, proprio all'angolo con l'omonima via. Una chiesa molto antica, che anche se più volte rifatta nel corso dei secoli e quindi rimodellata, sembra sia esistita fin dall'anno 1000, ma sarà nel 1271 che il Vescovo di Torino deciderà di cederla ai padri Antoniniani che si dedicavano alla realizzazione di un particolare medicamento, un medicamento che veniva ricavato dal grasso dei maiali e che era molto importante perché serviva, se non per curare, quantomeno per alleviare il dolore procurato dalle piaghe di una malattia molto molto diffusa all'epoca. Oggi la conosciamo col nome di Herpes Zoster, ma in realtà non per nulla verrà soprannominata il fuoco di Sant'Antonio. La pomata che serviva per alleviare il dolore veniva ricavata a partire dalla elaborazione del grasso dei maiali. E quindi i padri allevavano i maialini, ebbene sì, nel pieno centro di Torino, lasciandoli anche liberi di scorazzare avanti e indietro per la strada, anche se teoricamente avrebbero dovuto essere contenuti nel recinto del sagrato della chiesa. Maialini a cui volevano tutti molto bene, proprio perché servivano per creare questa cura, e che venivano identificati non solo da un campanellino ma anche da un nastrino azzurro che li identificava come di proprietà dei padri di San Dalmazzo. Maialini che continueranno a scorazzare per la via con buona pace delle famiglie importanti che abitavano lungo la via Garibaldi e dei forestieri che giungevano in città fino all'inizio del Seicento, quando poi la chiesa passerà ai padri Barnabiti. E qui si aprirà un secondo capitolo, perché proprio nell'epoca di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I si assisterà in città al sorgere di alcune confraternite di tipo laico-religioso che cercavano in qualche modo di rappresentare il welfare dell'epoca. Si dedicavano ad aspetti diversi, erano cittadini che per carità cristiana cercavano di portare aiuto alle fasce più deboli della società, ma per svolgere le loro attività avevano bisogno di appoggiarsi a qualche parrocchia per avere anche dei locali a disposizione. Il caso per esempio della confraternita della misericordia, una delle più antiche confraternite nata in città nel 1578 e a tutt'oggi viva e operativa. La confraternita della misericordia si dedicava a portare aiuto materiale e spirituale a coloro che pativano in carcere, ma soprattutto a coloro che venivano condannati a morte, tant'è che originariamente proprio all'ingresso all'esterno della chiesa i condannati a morte venivano poi seppelliti dopo essere riportati indietro dal patibolo. Ma i padri barnabiti non gradivano molto le attività della confraternita, anche perché queste portavano il luogo a essere frequentato proprio dai parenti, dagli amici, dei condannati e dei carcerati, sorta di feccia della società dell'epoca. E quindi dopo vari dissidi la confraternita dovrà spostarsi. Gli verrà assegnata una nuova chiesa che restaureranno e che ancora oggi troviamo un poco più in giù, sempre lungo l'asse della via Garibaldi, in un vicolo chiuso che porta a tutt'oggi il nome di via della misericordia. Arrivederci e alla prossima occasione.